Poco più di una settimana fa la clamorosa evasione dalla terza casa di Re Bibbia di due detenuti, uno dei quali è stato riarrestato a distanza di 24 ore, ha fatto esplodere di nuovo il problema sicurezza nelle carceri romane, ma anche la rabbia degli agenti di polizia penitenziaria che da tempo denunciano alle autorità competenti il pericolo di essere ampiamente sotto organico e allora va avanti da ieri all'interno proprio di Re Bibbia una straordinaria forma di lotta, quella dell'autoconsegno, ovvero servizio minimo garantito, ma poi gli agenti della nucleotraduzioni e piantonamenti che aderisce per lo più al sindacato della CGL, invece di far rientro dalle rispettive famiglie a fine turno, rimane all'interno della struttura penitenziaria, rifiutando però il vitto della mensa. La protesta proseguirà ad oltranza perché l'intento è quello di contrarre e costringere ad un confronto che porti a cambiamenti, provveditorato e dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a far capire come stanno le cose, basta nei numeri. Al nucleotraduzioni e piantonamenti sono annessi 132 agenti, le donne sono soltanto 6. Nella 2013 sono stati portati a termine ben 5.000 servizi e pensate che per servizi non si intende la sola e semplice sorveglianza ma anche il trasferimento dei detenuti, l'assistenza al regime domiciliare, l'assistenza agli stradati, tutto questo si realizza a fronte di una popolazione carceraria di 1.800 persone nel nuovo complesso di Rebibbia, alle quali si aggiungono i 500 detenuti della casa di reclusione insieme alle 450 donne della sezione femminile, chiudono i 47 detenuti della terza casa. E nell'ormai lontano 1996 gli agenti addetti a tali servizi erano 260, praticamente il doppio di oggi, poi pensionamenti, distaccamenti, trasferimenti, insomma l'unità, il nucleo è stato sfoltito, il lavoro aumentato, le problematiche si sono moltiplicate, le criticità sono all'ordine del giorno e quello che è accaduto una settimana fa è stato un po' come scoperchiare il vaso di Pandora.